Il progetto Context è mettere insieme le esigenze delle aziende da un lato di selezionare dei nuovi dipendenti, le esigenze degli studenti fondamentalmente di poter fare un'esperienza in azienda e vedere magari molto spesso per la prima volta come funziona un meccanismo di selezione. Il meccanismo del Context è basato su una logica di moltiplicatore, dico io, cioè quando l'azienda ricerca, supponiamo due persone, due nuove posizioni, noi abbiamo un moltiplicatore per dieci, cioè portiamo 20 persone, noi lavoriamo sulle 18 che non sanno prese per capirci, per fornire loro un insieme di valutazioni fatte professionalmente da nostri psicologi sulla dimensione di come si sono comportati durante il percorso di Context, di come hanno interagito fra di loro, di come hanno portato a casa il risultato che è stato loro assegnato appunto perché il Context è fondamentalmente una gara e a tutti quanti lavorare in gruppo è servito molto per poter vedere quelle sono le loro caratteristiche per poter vedere come raggiungono i loro obiettivi anche in forma di presentazione, per esempio il Public Speaking. Il valore aggiunto è esattamente nel far portare a casa agli studenti non selezionati una valutazione sul loro comportamento, sulla loro modalità, sul loro approccio, fatto in modo professionale, non casuale, da dei recruiter professionisti che dovrà servire loro per le prossime esperienze e quindi è un ponte effettivo per il lavoro, per il futuro.